Siete pronti? 3, 2, 1... Piacere, Marco. Com'è andata ieri? Non ero io ieri sera, ero mio fratello. Provate spesso di scambiarvi? Non ho beccato. Il tuo fratello non ti ha detto niente. Il fratello non mi dice mai cazzo. Forse ce ne mostrerà di noi. Io sto bene con te. Volevo solo dirtelo. Eh, siamo diventati affalosi! Spacca! Vogliamo vedere che succede.